Ciao a tutti, sono Jacopo Barbero di Cortocircuito Savigliano Film Festival e Shortcuts Magazine e oggi sono qui come sempre per fare una video recensione che realizziamo in collaborazione con la Biblioteca Civica Luigi Baccolo, dove vi ricordo potete trovare disponibili per il prestito gratuito tutti i film di cui parliamo in questa sede. Ebbene, oggi ho deciso di presentarvi un film molto particolare, molto molto bello, che è Departures, un film giapponese di Yojiro Takita del 2008, che all'epoca ottenne anche una certa risonanza perché vinse il premio Oscar come miglior film straniero nel 2008 appunto. Allora, vi spiego brevemente di che cosa parla il film. La trama parla di un giovane giapponese di nome Daigo Kobayashi che lavora come violoncellista, musicista, in una importante orchestra di Tokyo che però non ha grande successo e che perciò a un certo punto si scioglie. A quel punto rimane, Daigo rimane disoccupato e perciò decide con sua moglie, sono una coppia giovane, sono sposati da poco, di tornare a vivere nel paese natale di lui che è, a differenza di Tokyo, è un piccolo villaggio di provincia giapponese dove quindi la vita costa anche molto meno e dove quindi pensano di ricominciare una vita insieme. Perciò i due, la coppia si trasferisce in questa piccola cittadina di provincia e ovviamente Daigo deve trovare un nuovo lavoro e sul giornale legge un annuncio che parla, diciamo, spiega che c'è un lavoro, si cerca una persona per un lavoro che ha a che fare con il concetto di partenza, insomma. E quindi il nostro protagonista pensa subito ad un'agenzia di viaggi, ma in realtà quando si reca per un colloquio presso questa attività commerciale scopre che si tratta di un di tutt'altro tipo di partenze, nel senso che qui più che di partenze si parla di dipartite, infatti sostanzialmente si ritrova in un'agenzia di pompe funebri e dove il proprietario di questa agenzia, che è un signore abbastanza anziano, il signor Sasaki, svolge la pratica di una pratica di tanatoestetica, in sostanza. Quindi cos'è la tanatoestetica? E la pratica, l'arte, diciamo, di preparare la salma di un defunto per, insomma, il suo ultimo viaggio in qualche modo. Quindi di rendere bello, di adornare, di ripulire, di lavare il cadavere e di prepararlo per la cerimonia funebre, in sostanza. Detto così mi rendo conto che non sembra un film particolarmente allegro, particolarmente leggero. In realtà il film è sorprendente proprio per questo motivo, perché in realtà è quasi una commedia, nel senso che il film è divertentissimo, anche perché Daigo finirà per accettare questo lavoro, ma non lo dirà subito alla moglie, proprio perché, insomma, ha un po' paura della sua reazione, ovviamente è un tipo di lavoro su cui pende un certo stigma sociale in qualche modo. Ma il film, appunto, è divertente per tanti motivi, perché questo personaggio è veramente buffo e perché il rapporto che lui instaura con l'antico maestro Tanato Esteta, Sasaki, è veramente straordinario, divertentissimo, molto molto ironico. E complessivamente è un film veramente molto bello e molto delicato, anche perché qui non ci giriamo attorno al tema del film e la morte, appunto. Departures è un film sulla morte, ma quello che voglio, il concetto che voglio far passare è che non è affatto un film triste o deprimente, anzi diventa quasi un antidoto alla morte, proprio perché il film tratta questo tema con estremo tatto, con grande delicatezza e raccontando la strana professione di questo giovane, del suo maestro, racconta la morte come un momento di raccoglimento, naturalmente un momento di raccoglimento anche per soffrire insieme, ma soprattutto per ricordare il defunto, per rendere onore a quello che questa persona è stata nel corso della sua vita e soprattutto per dire addio a una persona cara nel miglior modo possibile. Infatti, cioè, è esattamente questo il lavoro di Daigo e del signor Sasaki, non tanto, cioè, anche preparare, cioè, il lavoro pratico è la preparazione estetica della salma, ma il lavoro, diciamo, a livello simbolico è proprio aiutare le famiglie a dire addio nel modo più bello, nel modo più dignitoso, nel modo più elegante possibile, in qualche modo, ad una persona amata. E quindi è anche un film veramente adattissimo ad un pubblico di giovani, di ragazzi, perché è un film, ripeto, non è assolutamente un film pesante, è un film molto ironico, molto divertente e che, pur trattando un tema apparentemente serio e quasi anche scabroso per certi versi, in realtà risulta veramente un inno alla vita, più che un, come dire, una macabra sinfonia di morte, ecco. Ed è un film, tra l'altro, anche visivamente splendido, perché è ambientato in questa piccola città di provincia giapponese, in mezzo alle risaie, quindi uno scenario anche affascinante, bellissimo, e poi è, come dire, accompagnato dalle musiche stupende di Joe Isaishi, che è un grandissimo compositore giapponese, che magari molti di voi potrebbero conoscere, perché ha composto quasi tutte le musiche sempre meravigliose dei film di animazione di Hayao Miyazaki, quindi La Città Incantata, Il Castello Errante di Howl, e così via. E quindi veramente è un film che avvolge lo spettatore, ne coinvolge tutti i sensi, e soprattutto davvero riesce a creare una riflessione veramente commovente su un tema che, ai noi, ci riguarda tutti, ma lo fa senza mai diventare triste, deprimente, ma anzi, appunto, divertendo, intrattenendo e coinvolgendo profondamente lo spettatore. Quindi guardate questo film, sono sicuro che non resterete delusi, e io vi auguro una buona visione. Grazie. Grazie. Grazie.